Buongiorno, il tuo dolce bambino rompe il vetro del vicino con una pallonata? La tua tenera bambina morde un cane al parco giochi? Per la tua pazienza non possiamo farci nulla. Per tutto il resto, con la polizza a casa e servizi e la garanzia responsabile al civile, ti possiamo aiutare per i danni causati dai tuoi figli minorenni. E tu lo sapevi?